Non ho nessun grillo per la testa, ha dichiarato il consigliere comunale Davide D'Alessandro. Non ho ancora tessere, non ho neppure la tessera di Fli. Non mi è stata mai data, pur avendo parlato per mesi, a nome di futuro libertà. Non è anche questa la crisi dei partiti? Era possibile ai tempi della DC parlare a nome della DC e esserne il capogruppo in consiglio comunale senza la tessera? Tornando alle cose serie, scritte da me è tutto chiaro. Io non ho aderito ad un partito del terzo polo, venendo da un altro partito del terzo polo. Io ho aderito a future libertà con la speranza che si facesse il terzo polo, un nuovo soggetto politico con UDC e liste civiche, non un cartello elettorale, non per capirci una lista per l'Italia. Ora mi dicono che il terzo polo è fallito, che non c'è nessun nuovo e unico soggetto politico, che c'è una lista per consentire ai soliti noti di tornare a occupare la poltrona più ambita. I cittadini pretendono chiarezza e semplificazione del quadro politico. Non sono interessati ai grilli e ai voli da spiccare di questo o quel politico. Vorrebbero una nuova legge elettorale per decidere con la loro preferenza chi eleggere e chi no. Poi, quanto alla mia persona, in questo momento, più che alla politica, mi sto dedicando a scrivere un altro libro sull'amore, non per la politica.